Buonasera amici telespettatori o buongiorno e benvenuti sul mio canale e su un altro video della rubrica russaliana che per l'appunto abbiamo intitolato The Consonant Challenge la sfida delle consonanti se conoscete già un po il russo sapete che ci sono parole e conseguenze di consonanti improbabili che sono difficili per un italiano per un anglofono da pronunciare se non conoscete il russo sicuramente ve lo potete immaginare per questo in questo video io provo a pronunciare alcune delle parole che riescono più difficili agli italiani e c'è anche qualche bonus grazie a tutti Dei medici da sicurazione. Sredstvostrachovani. 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 Quindi non si può tradurre come una sola parola? No, perché è un participio passato attivo, di forma attiva. Che intivo. Rotmistrstvostrachovani. 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 Rotmistrstvo. 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 Lo che comanda una compania. L'esplesa. L'esplesk. L'esplesa. Vesplesa. Sredstvostrachovani. 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 Adesso Adesso Sì, è vero. da Novocerjomushkynskaya Vizvati taxi ad Chariqa Pachipnikovskaya da Novocerjomushkynskaya Vizvati taxi ad Chariqa Pachipnikovskaya da Novocerjomushkynskaya Qual è la cosa più interessante di questa strada? Di queste strada esistono E' ще bónusam dekilke ukraińskich sliv A kakuda? Tak Kaji, будь laska, tovaristo Kaji, будь laska, tovaristo What? Tovaristo 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 E' ще, ne možemo наказati Paljanića 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 Per oggi è tutto Per oggi Iscrivetevi al canale Commentate Likeate Condividete E ci vediamo la prossima volta Sul mio canale Dove parlo non solo di cose russe Oh beh Ciao